I carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Francesco Manna, hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un 36enne polacco dimorante all'Aureana Cilento e già sottoposto al divieto di dimora. L'uomo, lo scorso 17 febbraio, è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Castellabate per il reato di furto aggravato e una volta sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora, è stato sorpreso dai militari della stazione di Torchiara nel corso di un'attività del controllo del territorio fuori dalla propria abitazione in orario notturno, in violazione quindi delle prescrizioni imposte dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania. Per tale motivo l'autorità giudiziaria, su richiesta della locale procura della Repubblica, ha deciso per l'inasprimento della misura cautelare in atto fino a quel momento, disponendo la custodia in carcere dell'uomo.